K44 Tecno, dentro gli ingranaggi del trasporto e della logistica. Dalla splendida cornice di Salonico in Grecia vi presentiamo la nuova gamma di Volvo Aero, che presenta una linea più aerodinamica proprio per ridurre ancora di più le emissioni. L'abbiamo provato per più di 300 km, su più motorizzazioni e questo è quello che ne è uscito. La cosa che possiamo notare sulla nuova gamma è l'esterno, che si presenta più allungato di 24 cm sul frontale davanti e se optiamo per una cabina XXL abbiamo anche l'allungamento di 27 cm all'interno della cabina rispettando comunque un passo di 3008. L'allungamento della cabina presenta un vantaggio di poter ridurre del 5% il consumo di carburante, chiaramente insieme ad altre accortezze, come ad esempio l'eliminazione degli specchi, che rimangono comunque un'opzione acquistabile, e il montaggio delle mirror cam. La nuova gamma presenta delle novità anche sul lato estetico. All'esterno possiamo osservare anche i radar, che saranno poi obbligatori dal 1 luglio del 2024, non solo volvoli monta sul lato ovviamente del passeggero, ma anche sul lato del conducente, per avere un controllo in più, ma soprattutto anche per avere un controllo in fase di apertura della portiera, per evitare spiacevoli inconvenienti. Comfort e sicurezza sono il focal point di Volvo anche quest'anno, e lo garantisce grazie all'utilizzo delle mirror cam, che grazie al panning, permettono al conducente di poter seguire il rimorche in tutte le fasi di manovra, sia in fronte marcia che in retromarcia. In camera monitor system sono integrati anche i blind spot warning, cioè il camion ti avvisa quando hai qualcuno di lato, che può essere una macchina, ma anche in città, una bicicletta o un pedone. E se il conducente inserisce la freccia e cerca di spostarsi, il camion inizia comunque ad avere anche gli allarmi sonori, e non più solo l'avviso sul monitor. Upgrade anche per il cruise control adattivo, che diventa Pilot Assist. Ovviamente non è un sostituto del conducente, ma appunto un assistente. Pilot Assist combina le funzioni del cruise control adattivo, che comunque rimane basato sulle mappe, e quindi non solo regola la velocità in funzione alla topografia della strada, ma anche regola la velocità in base al raggio di curvatura della strada, o addirittura prima delle curve, delle rotonde, degli incroci, rallenta e quindi diminuisce la velocità, permettendo all'autista comunque di essere sempre anticipatorio rispetto alle zone più pericolose della strada. Certo che vogliamo testare sul curato per la strada, perché non mi gira da solo. Infatti, non dobbiamo più fare niente. Cosa servite? Niente. Noi assistiamo. Abbiamo il camion a lavorare. La cosa veramente interessante a livello di sicurezza è che in caso di malore del conducente, il camion dopo 15 secondi manda un avviso sullo scherbo. E se non avviene nessuna interazione, dopo altri 15 secondi iniziano gli allarmi. Ma dopo 45, se il conducente ancora non interviene, il camion inizia a rallentare da solo fino a fermarsi. Attiva le quattro frecce, accende le luci in cabina e sblocca le porte per garantirne i soccorsi. Quello che vedete alle mie spalle è l'FH16 con la nuova motorizzazione D17. Disponibile con tre potenze differenti, 600 cavalli, 700 e 780, che presentano nuove coppie, 3.000, 3.400 e 3.800. In più è stato potenziato anche il freno motore, che arriva fino a 525 kilowatt, garantendo così non solo prestazioni di consumi migliori, ma anche prestazioni elevate in tutte le situazioni. L'esperienza di guida a bordo di un camion elettrico, nello specifico ovviamente l'FH elettrico che stiamo guidando, non cambia molto come comfort di guida, posizione di guida e stile di guida per un conducente, anche perché comunque rimane il fatto che è dotato di i-shift, quindi anche nel cambio marcia rispetta ovviamente lo standard Volvo, che è sempre molto apprezzato dagli autisti. La cosa che veramente cambia è intanto la silenziosità di un camion elettrico, che permette al conducente a fine giornata di sentire molto meno lo stress, anche se i nuovi veicoli comunque sono molto più silenziosi, è evidente che è ridotto praticamente a zero, se non per il rumore dei pneumatici, il rumore di sottofondo. In città invece, con la possibilità di avere il retarder, la leva del web A1, possiamo sfruttare la guida one pedal, ovvero semplicemente giocando con il pedale dell'acceleratore, premendolo e rilasciandolo, possiamo rallentare ma anche fermare il veicolo. Il freno motore è in questo caso rigenerativo, cioè recupera l'energia in frenata per poi riportarla alle batterie e aumentare ovviamente con un buono stile di guida l'autonomia del nostro veicolo. Abbiamo visto la nuova gamma più ampia e efficiente della casa svedese. Quale sarà il nuovo obiettivo di Volvo? Ancora non lo sappiamo, anche se gliel'abbiamo chiesto, ma sicuramente per il momento è quello ovviamente di continuare a sviluppare il comfort di guida degli autisti e anche di ridurre le emissioni. Per quanto riguarda noi invece, io vi aspetto al prossimo test drive su K44. A presto! K44 Tecno vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio. È una produzione Trasporto Europa e Uomini e Trasporti.